William Gelsumino, quelli del Delfino ci sono, ci saranno sempre al fianco del Pescara, si riparte per una nuova stagione, si riparte con il nuovo tesseramento? Sì, ci saremo sempre, l'obiettivo è quello di essere sempre vicino alla nostra squadra del cuore, con il nostro gruppo di amici che ci sostiene sempre, eppure oggi è venuto numeroso. Noi alla fine facciamo sempre l'aggregazione fuori casa, quest'anno ci sono andate un po' di trasferte proibitive, quindi cercheremo di farle tutte, ove non sia possibile organizzeremo sempre dei piccoli eventi qui in sede per vedere le partite insieme, una serata magari tra due rosticini, due cose insieme, ovviamente oltre a tutti gli altri eventi di beneficenza che facciamo sempre, grazie ai quali comunque abbiamo conosciuto tante persone, tanti amici che anche oggi sono presenti qui con noi. Fiducioso per questo nuovo campionato? Guarda, il fatto che il campionato inizi una settimana dopo magari aiuta la società a comprare quei piccoli tasselli all'ultimo giorno di mercato, se riescono a mettere a segno quei due o tre tasselli che mancano, io già mi sono sbilanciato prima, a maggio ci vediamo la nave di Cascella, insomma, vabbè, al di là di tutto, insomma, buone sensazioni, sono positivo perché la squadra, vedo che si è formato un nuovo gruppo, senza magari alcune scorie del passato e quindi, insomma, li vedo più motivati i ragazzi.